Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Questa era la novità, se pensate che a Napoli hanno fatto il laboratorio PD 5 Stelle per eleggere il signo, salta il laboratorio. Io lancio una suggestione, dico Conte fai sul serio, se fai sul serio no, se fai sul serio con chi devi venire a parlare? La domanda che volevo fare, leggendo oggi la sua intervista, da quello che mi ha detto questa mattina, l'identikit del suo programma, delle sue idee, della base programmatica, anche di quello che chiede la sua area, assomiglia molto a quello che in teoria avrebbe dovuto fare Giuseppe Conte, ma non è che lei per caso si sta proponendo in caso Conte venisse defenestrato come guida del Movimento 5 Stelle? Vado molto più terra terra. I temi sono quelli? Vado molto più terra terra, io sono un uomo delle istituzioni. Quando mi sono trovato... Lei ha detto radicali ma di governo. E' Giuseppe Conte? No, lui è stato nell'istituzione, è come diceva Rizzo, uomo del sistema. Io siccome amo parlare più con i fatti che con le parole, nella mia vita di amministratore di una città complessa, ho messo in atto molti dei punti programmatici che Conte o i 5 Stelle non sono riusciti a fare. Acqua pubblica, no alle privatizzazioni, beni comuni, democrazia partecipativa, lotta alla camorra. Questi sono temi che non è campagna elettorale, è un rendiconto delle cose che uno fa. Allora siccome guardo con interesse, di Battista dice delle cose, Conte ne dice altro. Conte è stato in silenzio, zitto. C'è una proposta, una suggestione, una provocazione per rispondere anche... Abbiamo visto il silenzio che significa, è un riposizionamento evidentemente solo elettorale che Conte sta facendo una campagna elettorale dove governa ancora con Berlusconi, con Renzi e con Letta. E con Salvini. Marco, una notizia che arriva a giugno.